E' nel cast di Ballando con le stelle 2021. Una sfida nuova di Zecca per il pilota di MotoGP, fermo per doping per 4 anni, fino al dicembre 2023 per la controversa sentenza inflitta dal TAS di Lausanna E così l'ex pilota dell'Aprilia, si lancia in una nuova avventura. L'ex pilota dell'Aprilia, che sogna di tornare nel mondo dei motori e che era presente anche nel paddock della MotoGP a Misano, ha accettato di lanciarsi nuovamente in pista ma in tv E nello show, che torna in onda in prima serata su Rallino il prossimo 16 ottobre sempre condotto da Mubi Carlucci Chi sarà la sua maestra di ballo? La bellissima Lucrezia Lando? Classe 1997. Che ha vinto l'ultima edizione e che lo ha accolto così. Cambia la pista. Ma la grinta è sempre la stessa Il gossip a Ballando con le stelle. Lei ha vinto l'anno scorso e quest'anno si vuole ripetere. Sono nella M È stata la reazione di Che ora, a pochissimo dall'esordio in pista, sta facendo esplodere il gossip E c'entra proprio Lucrezia Lando, i due sono stati pizzicati fuori dalla sala prove in atteggiamenti che il magazine Gente, che ha pubblicato le foto in esclusiva, e definisce oltre i passi a due di danza C'è del tenero Viste le foto di gente che immortalano il feeling tra e Lucrezia Lando, i presupposti per il decollo di una frequentazione sentimentale ci sono tutti Chi vivrà, vedrà. Entrambi sono single. In passato lui ha avuto relazioni con donne famose Impossibile non citare le storie con Belen Rodriguez e poi Giulia Delellis In questi mesi gli sono stati affidati diversi flert ma lui non smette di dichiarare che l'unico suo amore in questo momento ha la moto Leggi anche! Non resta che aspettare l'inizio di Ballando con le stelle 2021 dove, oltre a, vedremo in vesti di ballerini Morgan, Arisa, Albano, Mieta, Sabrina Salerno, Fabio Galante, Valeria Fabrizi, Federico Fashion Style, Alvise Rigo, Bianca Gascogna e Valerio Rossi Albertini L'appuntamento è per sabato 16 ottobre 2021